Ha fatto la Sarta e ha scelto di rimanere single, trascorrendo la sua vita nella tranquillità del paese di montagna e della casa dove è nata il 12 giugno 1919 e dove ancora oggi risiede. La chiamano Nonna Rosina, la nonna di tutti i galatesi. Antonina Rosa Carcione ha conquistato questo titolo nella giornata in cui ha tagliato il traguardo dei 100 anni, con una festa che ha coinvolto tutta la comunità di Galatima Mertino. Proprio in casa sono iniziati festeggiamenti per il centenario dove amici, parenti e rappresentanti dell'amministrazione comunale l'hanno omaggiata con una visita di auguri. Poi la banda l'ha accompagnata nel percorso a piedi fino in chiesa dove padre Vincenzo Rigamo ha celebrato una santa messa. Al termine del rito religioso la grande festa nel salone parrocchiale, con torta, candeline, foto di rito e la consegna di una targa ricordo conferita dal comune per l'occasione. È un traguardo bellissimo e siamo orgogliosi e felici come comunità di festeggiare questi 100 anni della signora Rosina che diventa così la nonna della nostra comunità, la nonna di tutti i galatesi. Pochi mesi fa abbiamo spiorato con un'altra signora Rosina i 100 anni, ha fatto 99 anni e purtroppo è venuta a mancare. Ma questo dicembre se tutto va bene avremo anche un'altra signora che compierà sempre questo importante traguardo dei 100 anni. Quindi questa è la festa non solo della signora Rosina, non solo della famiglia ma di tutta la comunità galatese. A testimonianza del fatto che a Galati si vive bene, si vive a lungo. Per questo oggi che siamo, tutta la comunità è stata coinvolta in questa festa. C'è la banda musicale, il prete ha celebrato la messa in onore della signora Rosina e quindi questa è una festa per tutta la nostra comunità.